Con questo video rispondo ad una domanda che mi viene fatta molto spesso, soprattutto ultimamente, ossia perché parli con persone che hanno idee diverse dalle tue, sia in riferimento a confronti pubblici che privati. E' specifico che non parlo di divergenze su come abbassare la pressione fiscale, no, su questioni identitarie, valoriali. Per usare le esatte parole di un mio amico, che cos'hai da dire a qualcuno che rappresenta l'oppressione contro cui hai combattuto tutta la tua vita? Prima di discutere le finalità intellettuali di un dibattito, che è quello che mi interessa fare qui, affrontiamo prima l'implicazione di un confronto pubblico, dove, indovinate un po', spesso il focus non è neanche sull'interlocutore, ma sul pubblico di quell'interlocutore. Togliendo subito una patina di ingenuità per un personaggio pubblico, per un artista, ci possono essere finalità lavorative, commerciali. Io spesso sono stato ospite in trasmissioni radiofoniche seguitissime a livello nazionale, becere, in cui magari sono anche andato a farmi prendere per il culo. Però era mio interesse arrivare a quante più persone possibili per far conoscere le mie produzioni artistiche, ludiche e ampliare il mio mercato. Naturalmente, un possibile tornaconto economico non solleva da responsabilità etiche nel momento in cui si scelgono dei collaboratori, la deontologia è anche questo. Però il pubblico che segue un artista, e che giustamente non conosce il mercato in cui si muove quell'artista, non di rado pretende un eroismo intellettuale da parte dell'artista, che questo potrebbe non potersi permettere economicamente. Quando si è di fronte ad un pubblico, ci sono poi implicazioni politiche. Se io vengo invitato a parlare ad un pubblico, ad una community, che immagino non abbia idee del tutto allineate alle mie, ancora più volentieri io ci vado. Avendo io un po' di fiducia nella mia capacità di argomentare, se ci sono migliaia di persone all'ascolto, e dopo avermi sentito, non dico che cambino idea perché non succede quasi mai, però dicono, accidenti, devo dire che spiegata così, la sua posizione è ragionevole. Se queste persone pensano questo, per me è un successo. Io sento di aver servito bene la mia causa. Eppure, ogni volta che lo faccio, qualcuno all'interno della mia bolla ideologica mi dice, mi hai molto deluso. Ogni volta che io vado fisicamente o virtualmente a parlare con un pubblico appartenente ad un'altra bolla ideologica, io ho una piccola emorragia di follower sui miei canali, evidentemente da parte di persone che ritengono che con chi ha valori diversi dai propri, non bisogna proprio dialogarci. È una forma di attivismo legittima, che però non è la mia. Chiarite le implicazioni di un confronto pubblico, veniamo adesso agli obiettivi che ci si può porre in relazione al proprio interlocutore, che sono quelli che mi interessano di più. Tant'è, non lo nascondo, che per me il vero dialogo avviene solo tra due persone. Una finalità è dimostrare all'interlocutore che si è dalla parte della verità. Magari la persona sta portando avanti un comportamento sbagliato, bisogna farglielo presente. È un tipo di dialogo che a me non viene particolarmente bene, perché beneficia della capacità di dire le cose come stanno. Mentre io sono strettamente diplomatico. Mettiamola così. A 37 anni sto imparando a farlo, ma non resta comunque il mio forte, lo faccio solo quando strettamente necessario. Un altro obiettivo è invece quello di mettere insieme i pezzi della propria visione del mondo per arrivare ad una verità più grande. Io ho capito questo. Tu che cosa hai capito? Insieme magari riconosciamo un principio più ampio, inclusivo, delle nostre visioni. E questo è quello che piace a me. Io di solito dialogo per questa ragione. Costruire dei punti. Trovare un dialogo anche con chi sembrava proprio impossibile averlo. Attenzione però. Entrambe queste finalità, anche la prima, quella di dimostrare che si è dalla parte della verità, presuppongono alcuni valori in comune. Un antiabortista non riesce a convincermi che l'aborto vada concepito e trattato come un omicidio per mancanza di valori, priorità e concezioni antropologiche condivise. Eppure, anche in assenza di valori condivisi, io posso essere interessato a dialogare. E perché? Perché c'è un altro obiettivo, diverso, che mi posso porre. Citando le parole di un amico, capire come uno pensa piuttosto che cosa pensa. Questo però non è un obiettivo che realisticamente ci si possa porre con chiunque. Servono delle premesse. La prima è l'onestà intellettuale. La seconda, non ho modo di infiocchettarla meglio, ma la percezione di un'intelligenza simile alla propria. ognuno poi valuterà con i propri criteri, ossia riconoscere capacità di ragionamento. Il loro opposto, ossia assenza di ragionamento e disonestà intellettuale, confluiscono in quello che potremmo definire fanatismo, inteso come ripetizione acritica, bovina, violenta, di concetti e lessico mutuati dal proprio leader di riferimento, senza uno straccio di elaborazione personale. Quindi il fanatismo è una metodologia, non ha a che fare con le idee. Io non credo, non mi vengono in mente idee che potremmo definire fanatiche. Le idee potranno essere buone o cattive, utili o dannose, ma anche un'idea buona può essere portata avanti con la metodologia del fanatismo. E lì io ammetto effettivamente che di fronte al fanatismo non sento di aver nulla da dire. Magari cambierò idea, ma non riesco attualmente a concepire degli obiettivi che io possa conseguire dialogando con un fanatico. Ma se riconosco la capacità di ragionamento e la volontà di usarla, allora io posso approfondirli, questi valori così diversi, incompatibili con i miei. Immaginiamo i valori come delle strade, solcate nella nostra coscienza, che i pensieri percorrono quando devono prendere delle decisioni. Alcune sono state scavate per noi dai nostri genitori, altre dalla società, altre ancora ce le siamo scavate da soli. Fatto sta che se manca un valore è una strada non percorribile per arrivare ad una determinata decisione. Però dialogando con questa persona, immaginiamo una sorta di mappa che man mano va a formarsi. Io vedo la struttura delle sue strade. Non so se avete mai fatto l'esperimento di cercare su Wikipedia qualsiasi cosa e cliccare il primo link, la prima parola cliccabile nella descrizione. Se io ad esempio cerco Bambola, film di Biggest Luna con Valeria Marini, la prima parola sarà appunto film, che mi porta a cinema, che mi porta ad arte, e via dicendo. Ovunque voi partiate, arrivate sempre alla fine alla filosofia. Allo stesso modo, quando io approfondisco le posizioni ideologiche, intellettuali, morali di una persona, continuo a chiedere perché, perché, perché. Nella mia esperienza si arriva solitamente poi a degli assiomi filosofici su ciò che rende l'essere umano tale. E lì magari l'indagine è finita. Ma a quel punto, di fronte a me, si è paresata tutta una mappa del ragionamento della persona che ho di fronte. Per me questo è un bellissimo arricchimento, anche se poi comunque non concordo con quello che dice, anche se proprio quei valori io non li condivido. Poi vi dirò, non è neanche detto che sia un piacere intellettuale fino a se stesso, anche perché una volta scoperta la mappa dei suoi valori, magari so che una strada non è percorribile perché lui non ha, non ha quel valore, ma per farlo arrivare ad una decisione, ad una presa di coscienza, posso percorrere un'altra strada, un altro valore, che ho scoperto dialogando con lui. Detto questo, ritengo che sarebbe un arricchimento per tutti cercare qualcuno con idee e valori diversi dai propri, ma che comunque si stima e dialogarci? Sì, lo penso, ma forse nella misura in cui chiunque abbia una passione, che sia la letteratura o le immersioni subacque, pensa che chi non lo fa si privi di un piacere, di un aspetto importante della vita. Ma penso che tutti dovrebbero farlo come imposizione? Ma assolutamente no, dipende dalle proprie inclinazioni, se uno non ha voglia di dialogare con persone che hanno valori diversi dai propri, non è assolutamente tenuto a farlo. Però, se invece a me interessa farlo, non rompetemi i coglioni. Bene, grazie a tutti e a tutti per l'attenzione, spero di avervi dato qualche spunto interessante, e vi ricordo che per chiacchierare insieme ci vediamo martedì e giovedì alle 22 su Twitch. Un bacio.